Buona domenica e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tef Channel. Oggi domenica 8 marzo, giornata internazionale delle donne, quindi apriamo questo nostro TG con un augurio speciale a tutte le donne da parte della nostra redazione. Passiamo però subito all'argomento di più stretta attualità, un aggiornamento su quello che è il coronavirus in Umbria, sull'emergenza coronavirus nella nostra regione perché salgono a 26 le persone che in Umbria risultano positive al Covid-19. Due nuovi soggetti hanno infatti contratto l'infezione, sono in isolamento nelle loro abitazioni seguiti dai medici della USL Umbria 1 e 2. Lo ha reso noto la regione, uno dei due nuovi casi era già stato reso noto nella serata di sabato, visto che si tratta di un infermiere che lavora presso l'ospedale di Orvieto dove sono stati chiusi i reparti di ortopedia e chirurgia. Attualmente dei 26 soggetti positivi, 4 sono ricoverati, 2 in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, uno nel reparto malattie infettive della struttura di Terni e un altro nella stessa struttura del nosocomio di Perugia. Le persone in osservazione riferisce ancora alla regione, sono 543 in buona salute ma sotto controllo medico perché venute a contatto con soggetti risultati positivi al virus di questi 376. Sono nella provincia di Perugia 167 in quella di Terni, nel complesso entro l'ora 24 del 7 marzo. Sono stati eseguiti 160 tamponi. E allora rimaniamo in argomento perché proprio nella notte è stato firmato il nuovo decreto da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Allora sentiamo un brano della sua conferenza stampa. Abbiamo creato due aree, una che riguarda del paese la regione Lombardia e varie province. Modena, Parma, Piacenza, Reggio, Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. A questo territorio della nostra penisola applichiamo un regime delle misure restrittive più rigorose. Ve ne segnalo alcune. Poi ci sarà un regime invece per la restante parte del territorio italiano. Per le parti della Lombardia e delle altre province del nord che ho menzionato ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento, vincolo per tutte le persone fisiche, in entrata e in uscita dei territori, anche all'interno dei territori. Ci si muoverà quindi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute. Fermo restando che è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per chi ne avesse necessità. Ci sono delle altre misure molto rigorose. D'ora in poi i soggetti con sintomatologia da infezioni respiratorie e febbre, maggiore di 37,5 gradi centigradi, a queste persone è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il proprio medico curante, a prescindere che siano positivi o no. Già, ripeto, in queste condizioni è bene che non vadano più, non si muovano più, rimangano a casa e contattino il medico curante. Ci sarà poi un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus. E poi una serie di misure che riguardano tutte le attività commerciali, sociali e imprenditoriali. In particolare, ad esempio, sono sospesi tutti gli eventi, le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sia in luoghi pubblici che privati. Saranno consentiti gli eventi sportivi, quelli da cui partecipano atleti professionisti o di categorie assolute che partecipano ai giochi olimpici, manifestazioni nazionali e internazionali, ma o a porte chiuse oppure all'aperto senza presenza di pubblico. Poi ancora sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché eventi in luogo pubblico privato, quelle manifestazioni a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico, ma sono anche sospese tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommessi, sale bingo, discoteche. Noi quindi non possiamo più permetterci in queste aree aggregazioni di persone. Sono sospese ovviamente le attività didattiche nelle scuole, nelle università, salvo quelle a distanza. Sono sospese anche le cerimonie civili, religiose, e vi comprese anche quelle funebri. È consentita solo l'apertura dei luoghi di culto, ma condizionatamente all'adozione di alcune misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Sono chiusi i musei, gli altri istituti e i luoghi di cultura. E allora abbiamo sentito le parole del Premier Conte e nel prossimo servizio andiamo nel dettaglio a scoprire cosa succederà, quindi da oggi in poi anche in Umbria. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella notte il nuovo DPCM recante ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto delle diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il primo articolo riguarda provvedimenti ulteriormente restrittivi per l'intera Lombardia e per 14 province di Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche, compresa quella di Pesaro Urbino alle porte dell'Umbria. Il secondo articolo fissa invece delle misure valide per tutta l'Italia, a partire dalla sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, la chiusura dei musei e di tutti gli altri luoghi della cultura, dei cinema, dei teatri, dei pub, delle discoteche e delle scuole di ballo, fino a sale giochi scommesse e bingo con sospensione della licenza in caso di violazione. Per bar e ristoranti c'è l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, pena anche qui la sospensione dell'attività. Per quanto riguarda tutti gli altri esercizi commerciali, è fortemente raccomandato organizzare gli accessi con modalità idonee a evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, confermata la sospensione di tutti gli eventi sportivi che si potranno tenere solo a porte chiuse, così come di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali. Per quanto riguarda palestre o piscine, l'accesso è consentito a patto che sia possibile mantenere la distanza minima di un metro. Per il resto, il nuovo decreto ribadisce quanto stabilito giorni fa relativamente a luoghi di culto, aperti ma con l'accortezza di evitare assembramenti, scuole, università e asili, chiusi almeno fino al 15 marzo, e ospedali con le restrizioni che riguardano visite e accompagnatori. Come abbiamo già accennato in precedenza, è stata sospesa l'attività di due reparti dell'ospedale di Orvieto, che rimane comunque regolarmente aperto dopo che uno è dipendente della struttura e risultato positivo al coronavirus. Il provvedimento ha riguardato ortopedia e chirurgia, dove si procederà ora alla sanificazione delle stanze per ripristinare appena sarà possibile l'attività. I pazienti dei due reparti sono stati dimessi o trasferiti in altre strutture, tutte in quarantena precauzionale, stessa misura adottata per il personale sanitario. L'origine del contagio delle dipendenti dell'ospedale di Orvieto, già in isolamento fiduciario a casa, è fuori dall'Umbria, come ha spiegato l'assessore Coletto. Abbiamo già tracciato tutti i suoi contatti, ha aggiunto e si conferma che nella regione non c'è alcun focolaio di coronavirus. Nel frattempo, primo caso in Umbria di guarigione di un paziente che era stato infettato dal Covid-19 è un traguardo significativo, ha sottolineato l'assessore regionale alla sanità Coletto. In mezzo a tanta paura con il governo stiamo facendo il possibile per risolvere la situazione che si è creata col coronavirus. Dobbiamo crederci. E restiamo in argomento perché Alitalia ha cancellato i collegamenti Perugia-Milano e Milano-Perugia per i giorni 8, 10, 12 e 14 marzo. Anche Ryanair ha comunicato ufficialmente all'aeroporto dell'Umbria le cancellazioni dei voli Perugia-Catania e Catania-Perugia per le giornate di giovedì 19 e giovedì 26 marzo. L'aeroporto è aperto, è pienamente operativo, ha spiegato il portavoce SASE, Riccardo Marioni. Quindi tutti gli altri collegamenti restano confermati. Ancora coronavirus perché dopo la sospensione dell'attività di scuole e Atenei disposta dal governo per l'emergenza, l'Università per stranieri di Perugia avvierà da domani, 9 marzo, la didattica in modalità online riguarderà sia gli studenti iscritti ai corsi di lingua e cultura italiana, sia quelli dei corsi triennale, magistrale e ai dottorati. Le lezioni verranno veicolate attraverso le piattaforme LOL e Teams. L'attività di insegnamento annunciato all'Ateneo seguirà il normale calendario didattico. Tutti gli studenti iscritti troveranno nella loro casella di posta elettronica le istruzioni per collegarsi alle piattaforme dove le lezioni verranno trasmesse. Come stabilito dalla Regione dell'Umbria, dagli enti affidanti i servizi in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche su tutti i servizi di trasporto in Umbria da domani, 9 marzo al 15, saranno in vigore i orari non scolastici. Conseguentemente, tutte le corse con cadenza scolastica non saranno effettuate. Rimaniamo a Perugia perché Mario Bravi, segretario generale SPI-CGL, chiede rispetto per gli anziani ed invita le istituzioni tutte a sostenere la terza e la quarta età in questo momento reso ancora più difficile soprattutto per le persone avanti con gli anni dal Covid-19. Sentiamo. In una nota stampa, Mario Bravi, segretario generale SPI-CGL Perugia, chiede maggiore rispetto per gli anziani. Il ritornello che ci inonda, per fortuna, muoiono solo i vecchi e i malati, è stucchevole e cinico, afferma Bravi, così come è l'invito ad isolare l'anziano a casa. Nella nostra provincia di Perugia gli ultra 65 anni sono ben 154 mila, di questi 21.500 vivono da soli e gli ultra 80 anni 48 mila. Enfatizzando l'età e minimizzando il problema, se il coronavirus, come succede nella realtà, colpisce le persone più avanti negli anni, si tende a raffigurare queste persone come semplici numeri. In realtà, prosegue Bravi, il fatto che siano un punto fondamentale della tenuta sociale in un momento così difficile, lo dimostrano tanti elementi oggettivi. L'ultimo, in ordine di tempo, è che di fronte alla chiusura delle scuole decisa dal governo, sono in gran parte proprio nonne e nonni a svolgere una funzione fondamentale in una logica di grande legame intergenerazionale. Per questo, conclude Bravi, invitiamo le istituzioni tutte a sostenere la terza e la quarta età in un momento delicato e difficile per tutti, nella consapevolezza necessaria che gli anziani costituiscano una cerniera fondamentale di tenuta della coesione sociale dei nostri territori. Cambiamo adesso argomento perché sono regolarmente in corso nella nostra regione le operazioni per il voto delle elezioni suppletive relative al collegio uninominale, Umbria 2 del Senato, indette ovviamente dopo le dimissioni di Donatella Tesei, eletta presidente della regione. Sentiamo. Sono poco più di 306.000, di cui 147.000 uomini e 159.000 donne circa, gli Umbri chiamati oggi alle urne per le elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato, indette dopo le dimissioni di Donatella Tesei, indipendente in Equatalega, eletta lo scorso ottobre presidente della regione Umbria. 60 i comuni Umbri interessati, 33 quelli della provincia di Terni per un totale di 168.635 elettori e 27 della provincia di Perugia, 137.747 elettori. I seggi, che saranno aperti fino alle ore 23 di oggi, saranno in totale 509, 295 nell'Eternano e 214 nel Perugino. Quattro i candidati che si sfidano. In base all'ordine estratto nella scheda elettorale, si tratta dell'ex assessore alla scuola delle comuni di Terni e attuale consigliere regionale della Lega, Valeria Alessandrini, sostenuta anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia, dell'avvocato Armida Gargani per riconquistare l'Italia, dell'operaio metalmeccanico attualmente disoccupato, Roberto Alcidi per il Movimento 5 Stelle e della dirigente scolastica in pensione, Maria Elisabetta Mascio, appoggiata da PD e Sinistra Civica Verde. Ci spostiamo adesso a Norcia, dove c'è stata la visita del nuovo commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini. Nuove ordinanze che saranno molto più incisivi, soprattutto sul versante della semplificazione e dell'accelerazione della ricostruzione privata. Il neocommissario straordinario alla ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini, ha commentato così la decisione di ritirare le ultime 5 ordinanze commissariali firmate dal suo predecessore, Piero Farabollini, sulle quali la Corte dei Conti aveva già formulato una serie di rilievi. Legnini, in occasione della sua prima uscita a Norcia, dove ha incontrato i sindaci del cratere Umbro, ha quindi posto gli obiettivi principali per dare finalmente la tanto agognata svolta alla ricostruzione post-sisma. Le priorità sono innanzitutto ricostruzione leggera, subito, nell'arco di alcuni mesi, devono partire, devono partire il maggior numero dei cantieri possibili, e poi individuare le misure possibili a legislazione invariata e quelle auspicabili da adottare in sede legislativa per la ricostruzione pubblica. L'importante è attuare le disposizioni che da diverso tempo sono state approvate in sede legislativa, per esempio quelle delle assunzioni molto importanti, 200 unità del personale, la legge risale a giugno scorso, non è la settimana in più che questo passaggio richiede che determinerà conseguenze il tema, semmai è vedere di attivare le procedure per farle subito queste assunzioni. Rimaniamo a Norcia dove i consiglieri del gruppo Noi per Norcia chiedono all'amministrazione comunale di individuare misure per sostenere gli operatori economici del Nursino in difficoltà a causa dell'epidemia di coronavirus e gli effetti negativi di questa nuova emergenza infatti si sommano a quelli causati dagli eventi sismici del 2016 per cui è necessario passare rapidamente dalle parole ai fatti tanto più che i ritardi nella ricostruzione allontanano sempre più il ritorno alla normalità Noi per Norcia pertanto con una interrogazione chiede all'amministrazione comunale se ritiene utile intervenire immediatamente per sostenere gli operatori economici in Urzini in aggiunta alle misure previste dal governo e dalla regione Umbria attraverso la costituzione di un fondo dotato di un finanziamento idoneo per la erogazione di contributi a sostegno degli operatori economici che risulteranno particolarmente danneggiati dalla crisi dovuta all'emergenza coronavirus che ha portato all'annullamento di manifestazioni come la mostra mercato che avrebbe potuto essere una boccata d'ossiceno per il tessuto economico locale il gruppo consigliare propone quindi all'amministrazione comunale di finanziare le istituzioni di questo fondo con le donazioni pervenute nel sostegno dei terremotati da ogni parte d'Italia da Norcia ci spostiamo a Gualdo Tadino previsto il sostegno per i 70 lavoratori della Tagina cassa integrazione straordinaria per 12 mesi i dettagli nel servizio di Paola Costantini La giunta regionale dell'Umbria con apposita delibera ha approvato le modalità applicative rispetto alla fruizione della cassa integrazione straordinaria nei territori umbri ricompresi nell'area di crisi industriale dell'Antonio Merloni si è concluso quindi ha commentato il vice presidente dell'esecutivo Roberto Morroni il percorso attivato nell'ambito del mille proroghe approvato dal Parlamento lo scorso 28 febbraio che consentirà di tutelare i posti di lavoro come nel caso dell'importante processo di riconversione industriale in corso alla ex taggina a 24 ore dall'approvazione da parte della giunta è stato sottoscritto l'accordo in regione tra sindacati ed azienda per la concessione della cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per 70 lavoratori Allora facciamo adesso un salto a cascia il pensiero va a tutte le donne che in queste terre scosse da oltre tre anni ancora segnate dal sisma hanno conosciuto la distruzione la paura e la perdita ma che con grande spirito hanno saputo rialzarsi e continuare a scrivere la propria storia e quella della società resistendo per conquistare il domani la chiamano resilienza io direi essere donne quanto ha detto a Lanza la madre priore del monastero Santa Rita di Cascia Sor Maria Rosa Bernardinis anche noi monache ha continuato Sor Maria Rosa abbiamo dovuto fare i conti con il terremoto e guardando alla parte antica del monastero che è inagibile il binancio non è ancora in pari purtroppo abbiamo però sperimentato questa dimensione di essere donna che ci ha portato a rialzare la testa e a farci protagoniste dirette della nostra ripresa e di quella del territorio prima di passare alla pagina sportiva un aggiornamento per quanto riguarda le elezioni suppletive affluenza delle 4,36% alle 12 secondo i dati del ministero dell'interno appunto per le elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato